Ci siamo qui con Albino Gargiulo ai campi di tennis di Montariello, come potete vedere una struttura molto bella e qualificata. In modo particolare oggi abbiamo avuto le semifinali di questo torneo. Sì, stiamo facendo da una settimana un torneo open, questa è la sesta edizione, un torneo open nazionale maschile, torneo che ogni anno ripetiamo soprattutto per loro, per i giovani, per i ragazzi, che ci teniamo come cultura nostra del circolo da tempo, di avvicinare i giovani della penisola sorrentina a questo sport. Come ogni anno abbiamo avuto un numero elevatissimo di iscritti, sono 80 in tutto, di cui 20 di seconda categoria e un prima categoria. Domani mattina ci sarà la finale. Questo torneo ha visto diversi atleti prestigiosi? Sì, infatti i finalisti sono Alessio Di Mauro, che è presente già da ogni anno, ci viene a trovare, che è un prima categoria, e Fioravanti, che è una promessa del tennis di...